Nel cuore di Milano, nel sontuoso Duomo, si è svolto un evento che ha lasciato l'intera nazione commossa. I funerali di Silvio Berlusconi, un uomo che ha plasmato l'immaginario collettivo per decenni, hanno attirato molte figure di spicco, ma l'assenza di due persone ha fatto scalpore. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli Bonolis, che ha tracciato i primi passi della sua straordinaria carriera all'interno dell'impero mediatico di Berlusconi, in particolare nel celebre programma televisivo dedicato ai bambini, Bim Bum Bam, è rimasto sorprendentemente assente. La cerimonia, intrisa di emozione, si è caratterizzata per lacrime e lunghi applausi. Dopo l'intensa omelia del Monsignor Delpini, le note del silenzio hanno risuonato nel Duomo di Milano, mentre tutti, alzandosi in piedi, hanno tributato un ultimo e prolungato omaggio al cavaliere, sia all'interno che fuori dalla chiesa. Il feretro, portato a spalla, ha lasciato la maestosa cattedrale, salutato dall'affetto delle persone. La spiegazione dell'assenza di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata fornita tramite un post su Instagram da parte di Sonia Bruganelli stessa. La condivisione di due video dallo studio del celebre programma televisivo «Ciao Darwin» ha accompagnato le sue parole, l'unico modo per essere lì. Un messaggio che ha suscitato curiosità e interrogativi sul perché non si siano uniti al funerale. Sembrerebbe che Bonolis non abbia potuto resistere alla tentazione di registrare una nuova puntata di «Ciao Darwin» in questa giornata così significativa. Mentre Sonia Bruganelli aveva manifestato il suo dolore pubblicamente nei giorni precedenti, condividendo una foto della torre Mediaset, adornata con la scritta «Ciao papà», in onore del fondatore dell'azienda, un gesto che ha commosso l'intero paese e fatto scorrere lacrime dagli occhi dei sostenitori di Silvio Berlusconi. I funerali di Berlusconi hanno diviso l'opinione pubblica, ma non mancano parole dolci per il cavaliere. Alcune persone hanno espresso gratitudine per aver insegnato che la determinazione, la volontà di lavorare e l'impegno possono portare a grandi risultati. Forse è proprio seguendo questo esempio che Paolo e Sonia hanno scelto di concentrarsi sul lavoro invece di partecipare all'ultimo saluto a un'icona della politica italiana. Ti ringraziamo per averci seguito e ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella, perché la tua presenza è fondamentale per noi.